Guardi, dal mio punto di vista il problema non è tanto Schengen che sono le frontiere interno all'Unione Europea, ma le frontiere esterne dell'Unione Europea, nel senso che lì servirebbe rinforzare queste frontiere, nel senso di dare un po' un ordine a quello che sta avvenendo, perché poi il problema si crea nel momento in cui arrivano tante persone che purtroppo non si sa chi siano e allora a quel punto da una parte sicuramente ci sono persone che scappano dalle guerre e quindi bisogna accogliere, ma dall'altra però dobbiamo anche tutelare la sicurezza dei cittadini e anche avere un certo ordine, perché nel momento in cui uno Stato non garantisce più la sicurezza e non garantisce più un certo ordine nelle persone che entrano in queste frontiere, è evidente che anche lo Stato stesso non ha più senso di esistere, perché comunque sono delle cose fondamentali che uno Stato deve fare, se c'è il caos è evidente che il caos genera insicurezza e genera tutta una serie di cose che potrebbero portare al collasso dell'Unione Europea stessa.